Ciao a tutti, oggi parliamo di etimologia che come avrete notato va molto di moda in questo periodo vi sarete sicuramente imbattuti in video di vari professori barra gente a caso che racconta l'etimologia di certe parole e dato che molto spesso queste etimologie sono completamente inventate e mi sono ritrovata cento volte a rispondere, a segnalare la cosa sia su Instagram che su altre sedi ed è anche un argomento di cui mi avete chiesto di parlare tante volte oggi vediamo un pochino come funziona questa disciplina e poi per divertirci smontiamo anche un po' di etimologie false, inventate che si sono sentite ultimamente etimologia si può intendere in tanti modi, diciamo che quello più diffuso è considerare il parente più prossimo della parola in questione quindi per esempio noi guardiamo l'etimo latino delle parole anche se poi le parole latine a loro volta derivano dal proto-indo-europeo però noi non diciamo insomma che la parola italiana deriva dal proto-indo-europeo ma che deriva dal latino, perché? Perché guardiamo appunto all'antenato più prossimo cioè alla lingua attraverso la quale la parola è arrivata nella lingua di arrivo per l'appunto quindi per esempio la parola italiana guglia deriva all'italiano dal francese agui anche se poi al francese deriva a sua volta dal latino però siccome a noi non è arrivata direttamente dal latino la parola ma è arrivata per il tramite del francese ecco che l'etimologia è quella del francese insomma come tutte le branche della linguistica l'etimologia non può essere considerata una scienza vera e propria ma come ho sempre detto per tutte le altre branche della linguistica questo non significa che venga fatta a cazzo di cane cioè segue un metodo rigoroso consolidato nei secoli non è una disciplina artistica, creativa, cioè che segue l'estro di come cazzo ci gira sul momento ma appunto segue dei procedimenti molto rigorosi prima di tutto per poter parlare di etimologia cioè per poter azzardare un'ipotesi sull'etimologia di una parola bisogna essere molto molto competenti in fatto di fonetica storica cioè di come si sono evoluti i fonemi x, y e z dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo perché se noi non conosciamo questo non possiamo sapere se l'etimologia che abbiamo proposto è plausibile il fatto che due parole si somiglino non vuol dire per nulla che siano imparentate bisogna conoscere appunto l'evoluzione fonetica delle lingue per essere sicuri che possano essere imparentate vi faccio un esempio semplicissimo il verbo inglese to have, il verbo avere può sembrare imparentato con il latino habeo anche perché noi sappiamo che una buona parte del lessico dell'inglese è latino a questo aggiungiamo anche il tedesco haben quindi ci fa proprio pensare ok la radice è quella latina che poi si è evoluta un pochino diversamente in inglese in realtà se noi conosciamo l'evoluzione delle lingue germaniche sappiamo per forza di cose con certezza che le parole tedesca e inglese non sono imparentate con quella latina infatti intanto quella h che noi vediamo nel latino non è una consonante non corrisponde assolutamente all'africativa o all'aspirata chiamatela come volete dell'inglese e del tedesco quella h dell'inglese e del tedesco corrisponde in realtà a una k a una velare o un'inclusiva velare delle lingue come il latino e il greco questo a causa della legge di Grimm che ovviamente non sto qui a spiegarvi comunque un fenomeno insomma che ha interessato le lingue germaniche che ha portato alla modifica appunto di una serie di fonemi è il motivo per cui abbiamo in latino octo quindi con la ch ma in tedesco acht con questa ch che non è esattamente uguale a ch di haben ma anche qua non stiamo ad approfondire troppo comunque si tratta in senso lato di fricative velari che poi si modificano in maniere più o meno diverse ma comunque il discorso è quello quello che succede alle lingue germaniche è che le occlusive sorde del proto-indo-europeo che sono conservate nel latino diventano appunto delle aspirate o delle fricative quindi non è possibile che abbiamo in soldone lo stesso suono in latino e nelle lingue germaniche lo stesso vale per la B perché la comparatistica indoeuropea ci ha mostrato che dove il latino ha una B le lingue germaniche hanno una P per esempio labrum, lip questo sempre per la legge di Grimm quindi il verbo avere delle lingue germaniche non è imparentato con il verbo avere del latino ma con un altro verbo del latino cioè il verbo capio e infatti se guardiamo l'evoluzione appunto della fonetica tutto torna perché abbiamo una K che nelle lingue germaniche dà K e poi abbiamo la P che in inglese dà una fricativa per l'appunto cioè V poi il tedesco subisce ancora un altro esito ma insomma non stiamo qua a entrare troppo nel dettaglio però è per spiegarvi che non è che basta che due parole si assomiglino e che le due lingue siano state in qualche modo in contatto o abbiano una matrice comune come nel caso delle lingue indoeuropee la cosa è molto più complessa altrimenti voglio dire sarebbe una cazzata sarebbe facilissimo risalire alla radice delle parole quindi ecco prima cosa se una persona non capisce un cazzo di fonetica storica di glottologia se non conosce le lingue in questione fino alle origini già non può permettersi di fare discorsi sull'etimologia come vedete quindi questa è una disciplina tutt'altro che artistica e romantica richiede tantissime conoscenze abbiamo menzionato la fonetica storica ma anche semplicemente la storia dei popoli perché bisogna sapere quali popoli sono entrati in contatto in quali periodi perché in base al periodo storico un certo mutamento fonetico non è ancora avvenuto oppure già avvenuto quindi ci sono tantissime cose da tenere in conto detto questo a cosa serve quindi l'etimologia perché anche su questo ci sono un bel po' di fraintendimenti serve a conoscere l'evoluzione della lingua cioè a vedere come da una lingua X si è passati a una lingua Y oppure all'interno di una medesima lingua quali parole sono state prese in prestito da dove che evoluzione fonetica hanno avuto quali sono stati i contatti appunto tra varie lingue quali sono stati anche gli slittamenti e mutamenti semantici perché naturalmente quando una parola passa da una lingua a un'altra oppure semplicemente si evolve nel corso del tempo si modifica anche il suo significato e quindi ovviamente ci serve questo per capire nella lingua intesa in senso lato quindi nelle lingue in generale cosa è più probabile che succeda perché poi la lingua si studia così cioè si osserva che cosa accade più frequentemente e da quello insomma si deduce cosa è più probabile che avvenga nelle lingue cosa lui è meno e cosa non è neanche mai stato riscontrato quindi l'etimologia non ci dice un cazzo sulla mentalità dei parlanti non è che io studio le radici del greco e del latino e allora so come loro concepivano l'amicizia o l'amore perché la parola amore ha in sé quell'altra radice no, queste sono cazzate non è così che funziona la lingua questa associazione l'ho detto centomila volte tra presenza di una certa parola o addirittura di una certa struttura morfologica ma oggi parliamo solo di lessico e mentalità cioè c'è una certa visione del mondo che necessariamente è veicolata da quella parola è un'associazione che non esiste che non sta in piedi anche perché come dovrebbe essere ovvio i mutamenti sociali sono molto più rapidi rispetto ai mutamenti linguistici non solo ma in un mutamento linguistico intervengono miliardi di cose che non è che hanno tutte quante a che fare con la mentalità dei parlanti su quanto sono carini su quanto sono innamorati di queste puttanate qua ma questo è il modo in cui l'etimologia viene raccontata diciamo a livello popolare a livello divulgativo cioè noi sentiamo sempre tirar fuori le radici soprattutto di parole greche e latine perché mitizziamo queste lingue per in qualche modo arrivare sempre alla conclusione che le parole sono belle che c'è tanto amore che c'è tanto romanticismo che i greci e i latini avevano questa visione della vita meravigliosa, superiore a cui noi non riusciamo più ad arrivare ecco queste sono tutte cazzate e guarda caso solitamente le sentiamo dire in ambienti ad alto livello di petalosità infatti il primo esempio che vi faccio è proprio il mago dell'etimologia inventate delle minchiate a nastro sulla questione linguistica è Roberto Vecchioni che le minchiate va pure a dirle in televisione sulla 7 in un programma dove guarda caso c'è Massimo Gramellini quindi ecco penso di aver dato un quadro della situazione cioè lui usa l'etimologia per istituire dei collegamenti non semplicemente linguistici storici tra le parole ma proprio filosofici cioè esistenziali quasi pretendendo di risalire all'antico significato delle parole che in qualche modo è ancora nascosto nelle parole attuali e quindi se noi ritroviamo la radice della parola ne scopriamo il vero significato anche attuale e questo è il primo errore cioè voglio dire che veramente mi mette anche in imbarazzo perché l'evoluzione di una parola fa sì che quel significato che aveva nel 1400 a.C. non ce l'ha più oggi quindi non c'entra un cazzo che in antichità ci fosse quel significato oggi non c'è cioè studiare la radice delle parole è molto interessante oltre che utile per i motivi che vi dicevo prima ma non è che ci serve perché così allora sappiamo meglio che significato hanno le parole le parole hanno il significato che la comunità linguistica ha da loro in quel momento non quello che avevano 200.000 anni prima e quindi questo procedimento di interpretare l'etimologia in questo modo è una puttanata anche quando le etimologie sono corrette immaginatevi quando sono inventate e di etimologie inventate credetemi che appunto negli ambienti petalosi è pieno vi faccio alcuni esempi prima di queste di vecchioni perché sono molto divertenti anche perché veramente cioè lui viene chiamato in causa come se fosse questo grande esperto di etimologia non lo è assolutamente un semplice professore di greco e di latino come ce ne sono tanti altri e tra l'altro dice delle puttanate che un professore di greco e di latino non dovrebbe dire per esempio qualche tempo fa gli è stata chiesta l'etimologia della parola cringe il verbo inglese che poi è entrato come aggettivo eccetera eccetera in italiano si è inventato che derivasse dal verbo cryo del greco che significa provare freddo facendo quindi tutta poi una supercazzola per dire insomma provo freddo mi ritrago quindi insomma provo repulsione per quella cosa e da lì poi cringe quando in realtà tra l'altro basta cercare su internet comunque alcuni dizionari attendibili su internet ci sono è una parola che proviene dal middle english che voleva dire semplicemente piegarsi però immagino che questa spiegazione non sarebbe stata abbastanza così appetibile per il pubblico non era filosofica non era romantica e quindi insomma perché dire la verità inventiamo delle cazzate tanto dov'è il problema poi mi fa ridere che ogni volta che le chiedono l'etimologia di una parola è sempre questa è una parola straordinaria l'etimologia di questa parola è incredibile ma che cazzo vuol dire non esistono parole incredibili cioè non ha nessun senso e vedete è sempre questo infiocchettare le cose perché sembra che se non le rendiamo in qualche modo dolci perdano di interesse cioè non può essere interessante in sé anche con una spiegazione tecnica per quanto accessibile al pubblico la storia di una parola no le dobbiamo diciamo cucire addosso delle altre cose che in realtà non c'erano allora le hanno chiesto l'etimologia della parola complotto questa guardate è bellissima lui risponde inventandosi proprio completamente di sana pianta che tutte le parole che contengono il nesso pl che tra l'altro lui chiama fonema quindi vabbè c'è proprio tornare a scuola ma comunque tutte le parole che contengono queste due consonanti indicano sempre cose che si uniscono cioè allora nelle lingue non esiste questa cosa non esiste che un suono o un gruppo di suoni abbia intrinsecamente un significato cioè questo proprio è una cazzata può succedere che ci sia una radice che è particolarmente produttiva e quindi dà luogo a tante altre parole che quindi conterranno quel nucleo consonantico vocalico quel cazzo che mi va bene ma non è che quel suono significa sempre quella roba lì infatti ovviamente è una palese cazzata che lui tira fuori dal fatto che in latino esiste il verbo complector che vuol dire abbracciare a cui tra l'altro quindi c'è pl nel verbo complector questo cosa dimostrerebbe poi ci infila in mezzo anche il verbo complicare inventandosi che deriva dall'unione di cum è implicare in realtà il verbo deriva da cum più plicare cioè piegare quindi vuol dire ripiegare avvolgere invece lui lo intende cum implicare quindi mettere insieme persone da lì poi lui dice c'è anche quindi l'implicato la persona che in qualche modo è coinvolta per poi arrivare a parlare di complice e quindi a parlare di complotto quando parla di complice tra l'altro dice una parola linguisticamente perfetta cosa vuol dire niente perché c'è questo onnesso pl che appunto vorrebbe dire riunire insieme e addirittura dice che plot la parola plot inglese visto che c'è pl significa mischia non è vero cioè proprio questo è falso completamente lo può accertare chiunque può verificare chiunque a cercare sul dizionario quindi vabbè poi cita altre parole sempre per no per darsi ragione tipo complesso amplesso eccetera eccetera ora io vorrei sottoporre le altre parole che contengono questo onnesso giusto perché vorrei proprio tanto sapere l'etimologia che mi verrebbe a raccontare che ne so placenta plagio oplita aeroplano sono tutte parole che indicano unione in qualche modo siamo immagino che siamo tutti connessi con Gesù Cristo e l'universo quindi sarà per quello che c'è il PL cioè parliamone che questa persona viene invitata in televisione a dire minchiate megagalattiche quando non ha nessuna competenza un'altra che si inventa è la radice di cuore cioè dice giustamente che deriva da cor cordis del latino e fin qui insomma a sbagliare questa insomma ci voleva molto coraggio peccato che poi dice delle minchiate sulla radice proto-indo-europea da cui questa parola deriva perché dice che crd che poi è appunto la radice indo-europea che significa cuore e che si trasferisce con cardia e tutti gli altri eccetera significa vibrare non è vero allora io quando ho sentito questa cosa ho detto boh vabbè magari sono io che non me lo ricordo l'ho studiata un po' di volte sta radice perché tipo quella che ti presentano ai primi esami di glottologia voglio dire però allora sono andata a consultare cinque o sei non mi ricordo quanti ne ho a disposizione dizionari di proto-indo-europeo questo vibrare non compare mai quindi se l'è inventato ovviamente per cosa? per dire che proprio nel nucleo più intimo della parola cuore c'è il concetto di vibrare l'emozione del Gesù Cristo tutte minchiate e poi c'è il fatto che anche quando l'etimologia è corretta come nel caso appunto di cuore che deriva da core la si racconta comunque con questo cazzo di linguaggio zuccheroso derivandone appunto dei significati filosofici insomma relativi alla mentalità ai sentimenti e cose che sono tutte delle puttanate e rientrano sempre in quel modo di comunicare che deve necessariamente caramellare inzuccherare le cose perché altrimenti la gente è tonta e non se le beve sostanzialmente no? siamo tutti un Lucrezio che mette la cazzo di zucchero per far ingoiare la medicina al bambino peccato che qua manco medicina si ingoia perché comunque ti bevi solo cazzate cioè quindi non c'è neanche quel lato positivo cioè per esempio per questa cosa di core lui dice da core deriva anche accordare concordare ok è vero e quindi che cosa ne trae lui perché il cuore l'armonia cioè non c'è bisogno capito anche se l'etimologia è quella quindi volendo si può riscontrare ma non significa niente cioè non significa che noi oggi quando diciamo concordo sto dicendo che sono in armonia il mio cuore in armonia col tuo cioè e non è che la parola è più bella più nobile in qualche modo più profonda perché ha questa radice cioè queste sono proprio tutte cazzate io mi rendo conto che per la gente forse sia non lo so forse le persone hanno bisogno di credere che le cose siano più più carine di quello che sembrano o che abbiano dei significati ulteriori non so relativi appunto al contatto con Gesù Cristo ma non è così è questo modo di presentare le cose non è che semplicemente io lo critico perché non mi piace quindi voglio cagare il cazzo senz'altro mi piace cagare il cazzo lo sappiamo ma è proprio che è dannoso perché noi ci disabituiamo completamente al ragionamento cioè al sentire un esperto che parla in maniera asettica liscia per quanto poi può rendere benissimo interessante la questione perché lo è di un argomento che essendo tecnico scientifico va raccontato in quel modo va descritto in quel modo cioè è come se io invitassi un medico in una trasmissione per chiedergli della cura di una malattia e invece di spiegarmi come funziona mi dicesse quindi quali scoperte sono state fatte quali esperimenti sono stati fatti sempre per carità riducendo la cosa e semplificandola per il pubblico si mettesse a raccontarmi della storia eroica di non so quale tizia che è riuscita a sconfiggere la malattia che cazzo c'entra cioè non mi serve a niente non è un'informazione anzi ripeto è dannosa perché disabitua completamente allo spirito critico e a riconoscere le puttanate quando le sentiamo perché ovviamente ci vengono presentate come le opinioni di esperti quindi alla fine noi ci abituiamo a sentire puttanate e non siamo minimamente in grado di riconoscerle perché le prendiamo per cose vere poi c'è Davenia che chiaramente lo sappiamo lui è proprio il gigante delle cazzate petalose delle etimologie inventate tra l'altro il prossimo video sarà proprio la recensione del suo libro sull'odissea che si chiama Resisti cuore preparatevi perché insomma è molto croccante lui di etimologie inventate cioè i suoi libri sono disseminati disseminati di puttanate inventate anche lui tra l'altro è un insegnante di greco e latino nel suo caso io sono abbastanza convinta che lui lo sappia che le etimologie che scrive sono cazzate ma semplicemente gli consentono di vendere però vabbè questa è una mia opinione e tra l'altro le supercazzole che si inventa sono così contorte e prive di senso che non riesco neanche a riassumerve cioè ve le devo proprio leggere perché non hanno nessun tipo di senso quindi non puoi ricordartene in qualche modo allora questa una che inventa nel libro sui leopardi di cui ho fatto la recensione se volete ridere non l'avete vista recuperatela perché comunque merita anche quella si inventa questa cioè allora parla del collegamento tra la parola favola e la parola fatto che effettivamente sono collegate etimologicamente derivano entrambe dal verbo fari del latino che significa parlare e fin qui ok il problema è che lui ne trae tutto un giro senza senso che appunto vi devo leggere perché se no non me lo ricordo dove dice che la fabola il racconto è proprio il luogo il mezzo grazie al quale il fatto ci raggiunge e si compie no cioè questo non ha nessun senso cioè semplicemente è ovvio che la favola è una cosa che viene detta e il fatto è quello che viene detto per definizione nel senso che corrisponde ad un disegno che cosa c'entra che noi costruiamo il destino con la parola cazzate ma non è finita qui perché ci aggiunge pure la fama che ugualmente ha la stessa radice in comune ma dovete vedere che cosa cazzo ne tira fuori lui cioè arriva a dire che la fabola rischia di essere fama non l'ho ben capita cioè rischia di arrivare al sentito dire è il dire che viaggia di bocca in bocca la fama è il dire che viaggia di bocca in bocca senza una fonte autorevole a parte che non è vero perché la fama è un'altra cosa qui la fonte è l'accumularsi di voci orizzontali non la voce verticale cioè quella che ha l'autorità dell'altezza del dio o della profondità dell'io parole buttate a caso vabbè senza fabola il fatto non ha luogo e mezzo con cui venire alla luce e compiersi e cede il passo al così dicono tutti al così fan tutti cioè ora voi ditemi che ora ma davvero davvero cioè ecco questo è un altro tizio che viene considerato un esperto e che viene preso sul serio quando dice queste minchiate che io dico ma come cazzo fai anche se non ne sai niente di etimologia come fai a non vaderlo che è una super cazzola ci rendiamo conto di quanto è grave che gli italiani non siano in grado di vaderle a queste cose cioè che ci caschino vuol dire che siamo un popolo di burrichi completamente di asini di gente tonta è gravissimo ragazzi poi ce ne sono altri tipo nel libro solo di sé dice che rimembrare significa ricomporre le membra quando non è vero che deriva semplicemente da un verbo francese che a sua volta deriva da un composto latino di memoro quindi significa ricordare semplicemente non c'entra un cazzo ricomporre niente di niente poi naturalmente non possiamo non citare un'altra grande eroina delle cose inventate delle puttanate petalose che è da Andrea Marco Longo anche in questo caso c'è una bella recensione che vi invito a recuperare vi cito fra le tante che scrisse che i verbi meno e mimno in greco che significano restare e aspettare hanno la stessa radice in greco è qua ok è vero cosa ne deduce lei? i greci sono capaci di capire che tutto cambia e insieme ogni cosa resta no semplicemente sono due verbi con un significato molto simile quindi non è strano che abbiano una radice comune ma vabbè e poi devo qua necessariamente citare Michela Murgia perché lei fu davvero la capostipite per certe cose di questo linguaggio del cazzo e anche lei di etimologie false ne ha detto a Iosa puntualmente mai smentita perché poi era considerata una specie di guru una delle ultime che disse che era anche una delle più clamorose riguardava la parola responsabilità che lei disse derivava dal dal res pondus latino che significa portare un peso allora intanto res pondus in latino non vorrebbe dire una sega perché res vuol dire cosa pondus vuol dire peso quindi cosa peso cioè già il verbo portare non si è capito dove sia stato visto ma poi questa è un'etimologia inventata non da lei ma da se non era un teologo o comunque un tizio che la inventò ma è iper smentita questa cosa anche perché ripeto non ha nessun senso l'etimologia vera è molto meno commovente banalmente il participio perfetto del verbo rispondere quindi insomma immagino che ecco non avrebbe riscosso lo stesso successo non la stessa emozione quindi giustamente ci inventiamo una cazzata per far vedere che se usiamo certe parole con consapevolezza queste ci cambiano profondamente insomma noi che siamo intellettuali che imbadiamo queste cose abbiamo una profondità maggiore bla 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 questo perché naturalmente il rigore insomma il discorso serio non è minimamente appetibile e qui non mi ripeterò insomma ho già fatto la settimana scorsa un video in cui spiegavo dal mio punto di vista i problemi del linguaggio petaloso di cui fa parte appunto anche questa minchiata delle etimologie quindi eventualmente se siete interessati vi rimando a quello ma insomma il succo è quello che ho già espresso se noi siamo circondati da questo linguaggio che sentiamo tra l'altro da persone che consideriamo autorevoli le quali invece di fornirci degli strumenti critici per muoverci un pochino nel mondo ci raccontano cazzate è chiaro che noi non abbiamo modo di sviluppare gli anticorpi contro le cazzate stesse del motivo per cui poi queste persone continuano a vendere continuano ad andare in televisione continuano a scrivere i libri continuano a pubblicare sui giornali quindi si crea praticamente un circolo vizioso che è impossibile spezzare perché le persone che invece vogliono fare un'informazione di qualità non diventano famose in quel modo proprio perché non hanno la stessa appetibilità e i docenti la gente seria che ne sa veramente in questo caso di linguistica e ce ne sono tanti ne cito uno recentemente su Instagram è comparso il professor Cortelazzo che è un grande linguista tra l'altro ha fatto anche dei video sulle etimologie false ma non diventerà mai famoso a livello popolare come una Michela Murgia o un cazzo di vecchioni nonostante sia già famoso nel senso che è ovviamente molto accreditato come linguista ma a livello popolare invece non lo conosce nessuno e i suoi discorsi ovviamente sono troppo scientifici non hanno tutte quelle stelline no? quelle e gli smarties messi sopra per cui qual è il discorso che alla fine poi io quello che dico sempre è che io proprio disprezzo e lo dico apertamente perché sono convinta che sia necessario farlo tutti quegli intellettuali vabbè molti di questi non possono essere definiti tali però comunque gente che ha anche studiato certe materie quindi che è in malafede se dice certe cose ci sono anche gli ignoranti perché vabbè sappiamo che alcune delle persone che ho nominato manco hanno manco hanno i titoli ma coloro che invece ce li hanno agiscono in malafede cioè sanno di star facendo un'operazione che porterà vantaggio a loro senza dubbio in termini economici di fama eccetera ma che non non porta nessun vantaggio al pubblico e se tu sei un intellettuale una persona un docente addirittura o una persona comunque che lavora nel mondo della cultura hai la responsabilità invece di educare il pubblico non di prenderlo per il culo per sfruttarlo e diventare ricco grazie a tutti